Tommaso Caccella, deduce di Air Light, ha compiuto la sua impresa di fare uno quadro. Cosa ne pensi di questo tipo di pittura innovativa? La pittura è bella, l'idea che la pittura assorba lo smoke è fantastica. Non è facile da usare come pittura per diventere, però di difetto se ne è fatta virtù e per cui siamo riusciti nell'impresa. Ma sarà trattato perché è la prima volta che uno... La prima volta però anche come intensità di colori, sono colori in realtà pensati per l'edilizia, per le cazze. Quindi è un po' più difficile tenere toni alti o colori squillanti, però è interessante. Andrebbe usata spesso e volentieri da pittori, soprattutto da quelli che fanno i graffiti, le cose all'esterno. Anche per non inquinare la città, anzi semmai migliorarla. Certo, assolutamente. Ok, Air Light allora. Grazie. Grazie a tutti.